Ciao a tutti i brori, eccoci in questo nuovo video, oggi sono qui con un nuovo video, un attimetto in pausa il rendering Sono qui con un nuovo video di hack Dark Souls, stavolta è Dark Souls 1 Queste hack sono molto simili a quelle di Dark Souls 2 Solo che inizierete proprio dall'inizio praticamente, salterete sì e no la parte iniziale, cioè in poche però le iniziere al primo falò Quello prima del portone davanti il boss tutorial E quindi eccola qui, un altro download, è come la stessa storia di Dark Souls 2 La mettete in una cartella chiamata PS3 e poi entro la cartella PS3 metterete un'altra cartella che si chiama Save Data Entro la Save Data metterete un'altra cartella che è quella dei salvataggi Poi tutto entro una pendente USB, tutto entro la Playstation Eliminate i file già esistenti, mettete questi e tutto gratis, senza virus e funzionanti Già testati perché praticamente l'ho utilizzato io Saranno i stessi file che utilizzerò per fare la guida di Dark Souls Per farvi una run, una run hack Che come in Dark Souls 2 farò prima una guida, un walkthrough ai boss E poi farò un walkthrough, una run di un unico episodio di un'oretta all'incirca Oppure di due parti, se dura troppo Quindi è la stessa storia, no virus, no... Niente di niente, tutto gratis, niente survey Dove si deve pagare appunto Inizierete con dei personaggi alquanto bizzarri Alcuni sono addirittura colorati con la pelle Hanno addirittura la pelle blu o rossa Anime non ne avrete tantissime Ma quelle a malapena per arrivare al livello 328 E il livello massimo è 838 se non sbaglio E quindi questo è tutto Vi metterò tutto in download Il procedimento come ho già detto è quello degli altri salvataggi Per più info contattatemi Iscrivetevi Qui dentro a destra o qui sotto Like, un bel commento E se volete aggiungermi vi metterò il mio Skype account qui sotto Ciao a tutti bro Ciao a tutti